buongiorno a tutti ragazzi io sono fabio e questo è il mio primo video tutorial realizzo questo tutorial appunto perché volevo condividere con voi il risultato di quella che è stata la mia ricerca di una performance migliore in termini anche di fps in giochi come assetto corsa competizione e non e diciamo che da questa ricerca sono arrivato a una conclusione che adesso andrò ad illustrarvi e faccio una piccola premessa non garantisco che il risultato sia uguale per tutti i tipi di configurazioni pc o che vada bene per tutti però quello che vi posso consigliare è quantomeno provare anche perché non stiamo a rischiare nulla insomma ed è un tentativo che possiamo fare benissimo tutti e durante anche il video vi farò vedere poi delle immagini del gioco per farvi vedere in termini appunto di fps di boost le migliori appunto che io ho riscontrato attivando questa impostazione adesso appunto passiamo alla procedura allora innanzitutto dobbiamo aprire il pannello di controllo nvidia una volta aperta questa finestra vi faccio vedere le mie impostazioni allora regole impostazioni dell'immagine io ho impostato su se le impostazioni dell'immagine 3d avanzato allora su gestisci le impostazioni 3d allora richiamoci quindi su gestisci impostazioni 3d avremo due schede una globale e un'altra impostazioni programma a noi quello che ci interessa è diciamo impostare questo parametro a ogni singolo gioco di nostro interesse in questo caso assetto corsa competizione quindi cosa faremo andremo in impostazioni programma andremo a selezionare assetto corsa competizione dall'elenco avremo qui dunque questo elenco di tutte diciamo le opzioni attivate disattivate che ha il gioco a noi la voce che ci interessa è questa modalità di gestione dell'alimentazione voi troverete diciamo come impostazione standard la scritta potenza ottimale allora io adesso nel dettaglio non so cosa realmente cambia però quello che vi so dire che funziona dovremmo dovremmo cambiare questa impostazione con preferisci le prefer le prestazioni massime dovremo dunque cambiare questa voce da potenza ottimale a preferisci le prestazioni massime una volta selezionato cliccate su applica e poi ok questo varrà ovviamente solo per assetto corsa competizione poi voi lo potete provare con i vari giochi che avete voi a disposizione e fare un confronto prima dopo e vedere se effettivamente avete avuto una miglioria adesso io vi lascio con delle immagini del gioco di assetto corsa competizione e vi farcio vedere insomma che con le impostazioni utilizzate da me il gioco il gioco va egregiamente e vi ringrazio per aver visto questo video e niente vi invito a lasciare dei commenti se avete avuto dei miglioramenti se il video vi è piaciuto un pollice in su e un saluto a tutti ciao un saluto a tutti 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 un saluto a tutti